musica 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 questa non apri davvero il culo perchè non son connesso insomma non respawns from server, error timeout musica connecting to server ancora dove è l'inculata? che poi ho mollato un bordello di roba aspetta per uno spazio libero di posizione la fila è amo musica 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 Il cartello non c'era prima, neanche questo c'era prima. Questo si può. Ma questo, il Bancomat. Open Digital Store. Trisham da... Non ho mai idea. Ma poi perché sono a parte questi cartelli della soda? Ah, tipo, te che mi dici? Do a baller roll. Sta parlando con me? Are your laws are blown to me? Olè, e si scazza un'altra volta. Oh mio Dio! Oh, le son tra che ganta però. Vediamo che ci dice no. Perfetto. Te che altro mi dici? Mi sembri contento. Hai salvato il villaggio da... Da cosa delle capre. Grazie. Vabbè, prego. Mora, basta. Ah, ora devo fermare lo... Shopkeep. Puoi aiutarmi? Ho fatto la mia parte. Non voglio... Contestare... Almeno... Ci sei onesto? Va bene. Zone oscura. Qui, qui, qui. Che c'era il coso. Alam, please add zone name. Aggiungi il nome alla zone. Eccolo lì! Bada, mamma... A parte non l'avevo visto però. Eh, eh, non c'è lì. Era mai... Te che sei? Turk! Wow, where did you come from? Da dove vieni? Penso... Io... Non lo so. Basta, non dici altro. La tua liza... Se è così inutile. Che bello. Eh, eh, da. Grazie. Allora, ricordiamoci che c'è anche una stradina più là, quindi. Yeee! Ok, vabbè, sono persi di nuovo però, eh. Eh, eh. Piglia! Questa non c'è un cerco. Eh, l'allero è là. Vai lì. Perfetto. Eh. Eh, eh, eh. E allora, sono persi di mare. Eh, eh. Ok. Ci sono delle monetine sopra da prendere. C'è da andare qua dentro. Ci sono tante monetine da prendere qua sopra. Se, 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 se maremo a campagna... Posso? Grazie. Allora. Pah, 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 pah. C'è da ritornare un attimo là su, su, in cima. Perché, non c'è perché, no. Se ci stanno delle monete da appigliare. Penso qui, sì, qua. Ecco. Perché però l'ultima moneta deve passare con la strunza. Eh, vai. Oh, qui c'è un segreto. Olè. Eh, la l... No. Nah, no. Aspetta. Eh, eh. Ok. Peglia, piglia. Peglia quella che ha spionato. Sì, io lì giù... io come ce vò. Devo farlo dall'altra parte. Dai, su, vai, vai, forze, dai, vai, su. Dai, che ce la fai? Sì, vado a tornare indietro, aspetta. Torniamo indietro. C'è l'ambuto qua. Eccolo qua. No, non faccio spazzare. Allora è più giù. No, non è più giù. Allora è qui, ecco. Dai, non faccio spazzare. Ah, vuoi sapere che ci devo comprare con tutte queste monettine. Allora, a regola, da qui dovremo riuscire ad andare nella zona qua. Abbiamo a modo tutto. Ok. Basta. Ecco. No. Andiamo. Vai lì, Maremma Cane. Oh, difficile era. Perfetto. Ok, perfetto. Sì. Eh, vabbè, io che sono. Eh, peggio su. Non c'è più. Ah, perché infatti prima dovevo venire di qua e dopo andare di là e mi pare che ci hanno anche ragione. Eh, però le monete le ha preso e quindi va fatto quello che sono non dietro. È stato bravo finché è durato. Sti cazzi. Mi sa che di qui... Oh, aspetta, aspetta, qui c'è qualcosa. Eh, eh, pensavo di sfuggirmi, eh, segretuzzo. Invece non mi ha sfuggito. Per nada. Ah. Vai, 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 vai. Sali, per l'amor di Dio. Eh, vabbè, via. No, no, aspetta, vai. Ci so che ha fatto il salto della fede, allora, via. Tutti pronti? Se sto coso sale... Eh. Eh, eh, uno, e due, eh, no, e uno, e due, eh, vaffanculo. C'è, niente, eh, 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 vaffanculo. Porta, ma è bello e divertito. Eh, 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 che poi si forma un cazzo se salti. Olè, to, affanculo, e io vado di là. Vabbè, qui si è completato, no? Non c'erano certi da farti, quindi non c'erano un cazzo più. Poi non. Eh, lì c'è qualcosa, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Pensavi di nasconderti a me. Ah no, qui non c'è. No, qui c'è qualcosa, perché. Però, ecco. Se magari vi tagliate allo stronzo. Marin. Marin. Allora. Ok, qua ci stava. Le, e lo piglia. Che è? Canadian Dialogue Pack. Ah, ecco. Eh, il cos'è. It's all about the time we add some color to the dialogue, eh? There are no, we're on your summit. Ok, immagino che devo ritornare di là. Ma siamo di qua? Che succede? Ah, ecco che succede, che ci stanno delle monetine. Mmm, pezzine di cacca. Ora, voglio un attimo ritornare da coso. Andiamo a vedere che succede se ritornano di qua. Oh. Oh. 3, aha. Stasus ban, ladies. Seriously, let's see who you re-authored this one. Tremonti vanna. No. Need an image change pack. Ah, ma non penso che sia in alcuni giochi che funziona che se ti cambiano un nome. Bannato? Oh, but change your name and get an account, yeah, we're going to charge your phone, see, vabbè, effetti. Ah. Ah, pensavo just in view. Player 69 sniper. 17. 17, per sia... No, non ci credi. Ah, ok. New player, welcome. Via. Ecco. Ah, ok, checkpoint. Ok, oh, ci sono ancora... Grinds, ok. Grinds, ok, perfetto. Questa non si può esaminare. Beh, ma mi serve il piccone. È stato bloccato. And this time will not sell me in the city. Cioè, non pensare di andare a prendere un piccone nella cava. Ok, mo' mi serve il piccone. Ho bisogno di rompere alcune pietre. Ho bisogno di rompere alcune pietre. Hai bisogno di... Hai un piccone? E che è un bollo. Non mi ricordo che posso d'orto. Ah, ma... Non ho visto... Oh, non ho visto chi è che scrive. Alan, please, d'azione. Questo è l'uomo nella zona. Cambio il nome, l'altro è. Stasso. Chimo, fu mai. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. 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 Quindi ha detto che ci dà il peccone se glielo riporto Mi sa che gliel'hanno pulata Non ho ben capito fare a letto quello che dicevano Eccolo qui l'omo E là Hai qualcosa Che avevo un tizio che aveva nella casa Perché sì ce l'ho Bene Che posso averlo? Devo andare a salvare il mondo ancora I need the follow-up supplies I need the follow-up supplies